Ma è vero il fatto che la borsa è l'unico che riesce a bypassare l'anticidio dei pixel? Allora lo so, io di sicuro ti bussi delle FPS Scusa, la borsetta La borsetta Scusa Assolutamente non è attiva anche la vape light e cose varie No, no, solo let's crack C'è Fire Leo, c'è Fire Leo Era staff su cos'è l'experience Farlo esplodere Bro, target a bestia Lido di merda Nel senso che puoi anche tenerli a distanza Usano l'ender Ma chi serve l'art? Non puoi neanche droppar le robe Bru Oh, topopola Uno Uno scappa Bruno Uno scappa Uno scappa Bruno 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 Secondo me c'è rinunciato a Salizio Dai La non c'è rinunciato Non ne so Che sono tutti i clienti di diverse categorie Bruno Bruno Come io ero pussi Vai vai Ah no Bruno 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 Ma io ero contro Kill Laura Kill Laura Kill Laura Non sto usando Kill Laura È una bugia Nooo The cake is alive Ti faccio vedere le hack contro un pimp che ha shoppato Bruuu 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 Nooo מק Geiss Oh non è vero Non è vero Pig party forum request Allora forum request Ti fai fare il controllo rito tantissimo Va sul TS, la subito di nuovo Oddio TS Come si chiama? Il mc potrebbe fare Porto due quanti rumori Andiamo a aprire un video, siete contenti? Vai lambando, vai lambando, vai lambando Oh no siiii Oh ovviamente Ma l'hai chiusa la vibe eccetera Ma questo è Art attack Ecco la vecchia Salve Stai Ma mi hanno bannato, io lo ritengo molto ingiusto Chi mi ha bannato? Eh non me lo ricordo Utter in off-fit tipo, non mi ricordo esattamente Ah Uttermost Uttermost, ma quello mi ha bannato? Eh c'è scritto Cheating, però non so se tipo Cheese formaggio, formaggio Utting io credo, una roba del genere Ti badano istantaneamente Grazie mille, scusi Perché l'inglese non è proprio spiccato Non ho le ali Dovevo ridere? Tu fai ridere Vabbè, comunque Ti serve un altro Ma secondo me è ingiusto Lo dirò a Barbara Palombelli E poi vi chiamo la mattina form E poi sono fatti vostri Insomma Oh ok Io ritengo una cosa ingiusta fratelli Uno entra con Avapelite Busta FPS E poi viene bannato Perché insomma Non gli piacciono i formaggi Cheese hunting qua Hai capito? Eeeh Vabbè, ora vediamo un po' di l'altro Ma si ma è una cosa oltragiosa Poi di venire bannati da Uterone affitto qua Utermost Insomma Se lo ritrovo abbastanza imbarazzante Ormai l'ha percurato troppo Non penso li faccia il controllato Eeeh Bro, mi è tipo bannato Aspetta Come è successo? Banne 3D Falserichetti di assistenza Eeeh 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 Eeeh